Qualsiasi scena di baci ci fosse stata, assolutamente la censurava e la tagliavano. Con tutte le parti censurate di baci, dei film censurate del bar. Qua non ci deve venire più, ma non ci deve venire più, ma non ci deve venire più. Quante mani ci hanno messo il passo, un grande mondo di sogni. Non ci deve venire più, ma non ci deve venire più, ma non ci deve venire più. C'è un punto 17, uno qua ci deve venire più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.